Sì sì lo so questo, lo so, non c'è bisogno che me lo vai a dire Minchia questa era una tale troiata che non ha idea, questa te l'ha detto direttamente Oh c'è pure più di un cartello, nit, buono a saperti Potrò utilizzare il vecchio invito? Non può più essere usato, grazie La puttana Molto fastidio, running at incredibly high speed High speed Ah, la continua a tutti che sei nella tua, molto tappo Nice Dice che sei in una crio ma non Mo, mo se li calcolerà Per haps Il giocatore ora online, cap Ti sei unitos Avento, ancora staccato, no questa è la milziera Minchie Dov'è sta troia, winchie Minchia la troia Perché questo tizio ha una Lamborghini rosa? Però che questo tizio è autistico Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che Vaffanculo Oh se è una location Una location bastarda K Bello schifo Non ce ne sono eventi vicini Mi c'è un cazzo vicino Vaffanculo Non metti l'aereo e voli verso lì O poi ti metti il cuore Che non te la fai Sì, che va a 100 km all'ora Dunque a caso dico Ci vediamo domani Cazzo I just do it for the credit Cazzo Oh, coli Cazzo E' entrambe le cose Good money, Glox Però è quella della Panigale Per le altre Prosto il party Con estrema facilità Per questo posso fai Tipo La Ventador La Mazda La Mingia La Mingia Allora Io non l'ho presa quel fio di tutta Meri fast No, Meri fast è un paio di coglioni E voilà Io sono finito in acqua Bello Usi il Protox su questa cosa Ed è come se non stessi usando un cazzo Nice Ah, il cimitero è Eh, grazie per avermi detto Ora che la scienza foto è attiva Ci deve entrare prima Così Allineato Nissan mismo Dove è Mingia Stava stato con le ali Perché non me la conti Ok K Fammi schippare Non la voglio sapere Sto grazie Niente Niente porco Magari ognuno dell'interno che è una merda pura Ah sì, la faccio alle 22 e mezza che c'è il frammento Bello Non mi capacito in modo in cui io non mi capacito e basta Mi devo portare questa bestiola qua Dice la panigale? Sì La mia La mia La mia Oh, Seattle, centro, centro di Seattle Magari questa sarà un pochino più facile Considerando che è proprio dentro Seattle E non a nord per modo di dire O a sud Perfapps? Dove minghe è Seattle? In alto a sinistra Dei USA Sempre in USA Pum 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 Oh, ma guarda che cazzo dove c'è qua Il logo del Gold Porco Allora, il logo Gold Porco Gold Porco Sì, io mi sono portato 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 Io stavo pensando la stessa cosa Boh, io mi sono portato da Olympic Park Olympic Porco Fashion 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 Ehm... Che cazzo vostro Taio è fermo a metà? Tu sei già lì? Non sei lì Cazzo No, sono Sto vedendo attraverso la La porca La porca dica non l'ho rimosso perchè non guardarlo lill 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 fagli fa la foto checca lo sporcos lo squercos e mi tasca questa va che ha fatta non c'è bisogno di dire come sia alla vita è come il culo di un porco spero che la cosa di street drive di funzioni potente poi c'è la chienire può comprare quella merda minghe ma non gli romperi il cazzo gli ho detto mi vedi mi vedi sul radar qui boh avrà tipo livelli con 2 miliardi dammi indicazioni dammi indicazioni aspetta un attimo sono là cazzo sta qua questo boh le pippe le pippe sicuramente luciano 83 mila c'è qui mamadonna oh e come cazzo fai a come cazzo fai a fare una foto lì no io non ci voglio creare che ex aspetta che ci vado direttamente ah ti sei warpato ok ti sei warpato abbastanza vicino mi pare di capire si il punto di tutta zona sarà arrivare a raggiungere quel punto ecco l'aereo o l'icottero di merda quando un gioco ti forza col porco vicino al tetto boh oh ho scelto l'elicottero e mi ha portato in alto vabbè yes è un'automatica è un po' è un po' è un po' non so che il figo si riesca a illuminarti la moto non vale solo l'elicottero in che senso non si capisce madonna che cazzo ah questo schifo madonna che me non me lo dice senza foto perché è un po' ora me lo dice sai che pure quando non te lo dice mi sono no mi sono sono sciuato questo viene spettacolare mi sono frizzato in volo non ho parole vediamo se funziona la prende a me la sta considerando che c'è da comprare se non c'è da qualcuno se non c'è da qualcuno c'è da comprare la mia posta da drift costa pochissimo proprio 200.600 punti se poi mi restano money dopo aver comprato la merda per il summit pochissimo pochissimo se non vediamo se non vediamo come me la posso la nismo la nismo stiamo parlando la nismo e la mulzielago la mulzielago però non serve per il sco la mulzielago e per l'effetto che cazzo si pia la mulzielago boh ah no questo è la chance photo no 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 però serviva qualcos'altro una ninja doveva tanto ci sarà un bundle quindi è giusto 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 no in effetti è vero c'era lo store fara in beyond che stasettimana aveva il bundle del porco ok prossime ciance foto quali potrebbero essere allora devo ritrovare quelle che ho fatto così le fai tu Lamborghini murzielago e puntualmente non mi ricordo dove cazzo stanno perché sono di tuttissimo il genere guarda foto non c'era predefinito venti prove ecco no vabbè una che so una che so con certezza è quella all'assault vabbè si dovrebbe spuntare dalla mappa lui dice che cazzo c'ha voglia di cercarle nella mappa in effetti io dalla mappa sto cercando di fare perché non spuntano manco dalla mappa ma che cazzo ma da me a paio sai che è drogato non so che dir allora io sono qui ma e poi tu devi andare tu devi metterti senza foto casa questa vicino a sto cartello vabbè io posso passargli davanti a sto cartello ad alta velocità quindi si tu devi semplicemente prepararti a disotterrarti io sto qui ti vedo bene tu resta qui da sti pizzi io barabbo barabbo e devo arrivare a 300 di velocità sai esattamente con 400 metri di distanza riusciva ad arrivare a 100 metri l'auto velo non era 300 rip era arrivato a 291 rip quindi cosa è bello che infani qua mi dice ricrea la scena di un film con la luna e la bici ah la cosa di et devo creare sai cosa ti chiede di fare et eh si però il salto dove mi inghiacchita vabbè me ne occuperò dopo mi sei sparito bo ma non ti non ti vede ma ora ti vede beh oh bello mi ha portato a 40 km bravo mi dico ma se sto alle salt flats un motivo c'è perché mi farei spavare in strada pezzente aspetta dove stiamo al cartellone merda eccole sei a 500 600 no boom 600 metri se mi che basta ma 600 100 metri per arrivare a 300 più chilometri o are san max bello come è voluto qui quel cono belle vada passi in modalità pic tour pic tour in modalità paparazzo si mette a cagare il cazzo non va questo con i secchi ancora benissimo benissimo velocità salata buono devo ricordarmi dove è quella merda con la street live la foto la foto con la luna non la posso fare solo quando è notte chiaramente bella merda tu sai che puoi cambiare l'orario giusto? ah giusto quello è vero però la rampa dove mi chiede sta? ecco quella non la puoi cambiare con l'orario la foto non la puoi cambiare con l'orario ok e lo spadres e lo sporcos e lo e lo spiritus santo questo tecnicamente potresti farlo pure tu però ti cazzo facciamo entrando aspetta a me c'è un record salto qua vicino tipo questo ti chiede di fare un salto da sti pizzi con la a ghiera un attimo ma questa qua della casa vale in qualsiasi location alla fine casa quella chiamata casa ah sì 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 salto a terra drift a terra velocità a terra salto a terra come salto a terra ma qui non c'è una rampa che cazzo sì ah sono il record mondiale fasulli ho capito lel oh grazie molto nice da qua tu veri cool essere mi raggiunga un momento tecnicamente dovrebbe farlo anche lei però sti cazzo facciamo faccio io un momento una momentazione vediamo se riesco a fare il porto se non vuoi davvero usare la tua ghiera allora ok yes ah l'importante è che le fai si mi chiede di fare un salto qui con l'agghiera e allora ti raggiungo al volo yes momento che devo svuotare la mappa sennò qua momento 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 oh yes momento 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 bello ha cambiato il tempo non ti vedo non ti vedo ok aspetta ok potrei fare anche la cosa della foto qua perché perché me lo conta come salto però devo cambiare l'ora del giorno vediamo se riesco a farla sta merda ok qui mi dice che c'è un salto ma allora impostazioni veicoli ambiente ok la luna io non la vedo anche se c'è ah beh sai cosa la farò nella zona del della fuga che vi è easy potresti pure provare a usare direttamente sta rampa sto rampone basta che c'è una moto invece della ghiera sa se vedesse la luna in effetti ah il famosissimo porco è qua vabbè posso usare questo in effetti potenza lentissima si ringrazia potenzialmente la nere e il porco per aver cagato il cazzo ullè ok ora devi beccare sia te con una foto e poi me con un'altra foto madonna penso se le conta entrambi io rido no vabbè la luna non sono sicuro possa farlo però non c'è no ma ha contato la tua cosa che chiede di prendere pure la rampa di prendere di prendere pure la rampa ho capito guarda faccio prima questa a meno che non ho sbagliato qualcosa io non sono sicuro no non credo moto salto allora puoi darmi le impostazioni please no come cazzo è la luna io non la vedo la luna dai il fatto che la notte dura tipo due ore al massimo non è meglio già spesso quando ci sono le nuvole del porco clima ecco clima cielo limpido ok là c'è sta la luna scendi e ora non mi sta prendendo né il salto né il resto oh allora ma ma sto reticolo non va sto ridicolo non va in cazzo reticolo in me oh si guarda sta foto è perfetta ma la sta continuando la luna non è nowhere near proprio madonna perca no no l'ha contata ma la luna non è nella foto in sé quello mi fa ridere vabbè 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 no ma a sto punto gli faccio ritriggerare la cosa salto live così mi da il pin che mi rompe i coglioni a cercarlo me lo dirà scienzo foto me lo dirà lo vedo subito faccio un altro salto bello gli ho chiesto di portarmi gli ho chiesto di portarmi da tutt'altra parte al porco e non l'ha fatto no no ha accannato il gioco ha accannato non mi ha portato dove volevo io perché è infame capisci è un infame in basca per questo motivo non gli piace vivere il 3 da sputtarti là con una pavice oh salto salto dalla piattaforma devo prenderla dal posteriore ecco perché non la contava molto capo yes devi inquadrare pure la la rampa bello pure qui la rampa non è inquadrata ma capo salto olive salto salto verdi dolci salto salto io faccio questo per i fan proprio for the porco anche questo è il canzone sulla testa sul porco ai sierra smadonnamento smadonnamento ah beh però adesso abbiamo una chance foto lì quindi possiamo warparci vediamo se ful bianco vediamo se funziona anzi perché ho i miei dubbi che ci warpa direttamente alle piattaforma mon porco guarda che ci fa sponare vicino non è sto benissimo ah magari se tolgo i filtri oh ecco eccole le cazze di palm springs vaffan cuor io intanto mi preparo per la prossima ciancia palm spawings no non gli piace proprio la piattaforma ti fa spawnare in una strada vicino alla piattaforma che è un bastardo stretto glider eccolo assolutamente questo è molto inizio che si deve fare lo dirà chance foto non lo dice esatto a caso senza nemmeno la chance foto attiva e lo stronzo mi ha detto oh sì chance foto completata cosa cosa dovevo fare una chance foto di questo l'ha contata per i good solo la taccia effettuata palm spring questo era molto easy mi ricordo le altre allora l'abbiamo fatto insieme po forza al porco ah graffiti che ho ok salto olive graffiti è molto easy dovevi tornare a detroit a detroit anzi no prima di andare a detroit era a los angeles cosa bo non lo so io rifto 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 bello mi dice che sei giocatore unknown ok oh bello sto spawn lel bello la tengo così guarda perché mi sta dando tutti i requisiti soddisfatti lel top ten anime mashups con un enfasi sul capolavoro tra l'altro che meraviglia ci posso davvero l'hai voluta fare così certo perché io sono più per il weird che per il che per il per l'effetto del porco allora chicago doveva andare a pieno fu ah squi squi io mi ricordo se c'era qualche altra cosa vabbè allora ora non mi ho fatto qual è quello giusto io io chicago lì ci vedo un po giù già molto giù io manco te vedo cosa bella qua ok ma te va bene devo prendere tutta l'insegna e il porco qui yes io mi credevo spostarmi no l'ha presa l'ha presa l'ha presa bene 003 easy bucks ecco quale altra mi farà un po dannare l'anima in pazienza quale altra allora la prossima che devo fare cerchio trigger entro ma ieni signor vicino alla casa proprio per me non ti vieni in stasso e devo vediamo dove mi fa spawnare nel posto sbagliato chiamiamolo ma ovvio ma ovvio sicuro che sei molto minchie bello sto spawn guarda che spawn perfetto devo dire secondino secondo me devo solamente prepararmi queste due di merda oh si all' benissimo bellissimo questa è la paninjagale paninjagale esattamente allora oh cosa ho colpito ah il tutto ho colpito il nulla lel vediamo se riesco a warparmi dove vorrei io ti sto qua sopra ma è buono si fa cacare con i controlli dell'elicottero bello gli ho fatto raggiungere e mi ha rimesso nell'esatto stesso punto in cui ero prima ma che schifo del cazzo guarda ok ora devo cercare di fare un trisimo x dienoscop qua sopra aspetto che ti provi a posizionarti un po' se no metti l'elicottero il sole spazio insufficiente per il dio porco eh il po 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 ok ma riprendo con vada 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 ma che cazzo era quella merda what the fuck is this devo farla dal centro dio caro eh me non l'ha contata eh ehm non mi non mi dice che hai la mazza giusta qui nella scianza è questa però strano mettiti il pin mettiti il pin e vedi non penso di poterlo fare non ce ne hanno l'ho già fatto tranne che devo con una mazza rx7 drift che è quella che sto utilizzando allora devo farla devo farla con personal inizia questa perché è bullshit mi sembra magari devi avvicinarti di più con qualcosa no continua a contarmi solo quello vabbè io provo a farla a caso magari la conta a culo guarda in caso la mazza non costa un cazzo bene nel peggiore dei casi la piglia 97000 crediti vabbè vado vado a comprare e torno subito perché si rifiuta mazza qual è l'altra che dovremmo già perché perché è un infame quello questa è la questa è la vendetta per aver contato l'altra la mx7 versione 2 drift 98000 eh sì posso buttare l'altra che dovevo prendere qual è almeno possiamo fare perché serve la morsi a lago da drift nessuno dubbio ce l'ha ma la posso prendere che cazzo me frega no 600600 crediti è un pochino tanto e considera che tra 3-4 giorni arriverà in bundle a questo punto tanto vale aspettare vero sì questa qua me la conta perché vabbè è un porco veramente allora deve essere la mia k hc2 oh no big bull shit bull shit dico io mi raggiunga my boy mi continuasse in attesa sono spawnato dall'altro lato l'unico suo problema è che è lentino effettivamente si manovra benissimo beh il fatto che sia ventana è esattamente un male tranne quando devi utilizzare i perk in quel caso dici rip non ti permettere di crashare maledetto io a sto punto mi metto come favorito l'elicottero perché mi sto scassando il cazzo mi faccio un orfino già che c'è ah ecco salve buon zalbino la pista d'atterraggio è qui my boy yes bello sto vedendo tutto una mera zero frame al secondo bello il fatto che vedo solamente il nome che si muove a scatti bella merda che mi ho fita fuori non è esattamente facile fare un 360 la sola oh bene poi quando hai finito prova ad andare sulle sbarre di di terra le sbarre dici eh ma c'è se va con l'auto guarda rispettate oh beh vai tra si su nulla anche meraviglioso bene bene questi stanno a fare applauso a sto cazzo bene abbiamo fatto quasi tutto almeno di quelle nuove poi possiamo approfittarne di fare qualcuno di quelle vecchie ah per me non cambia un cazzo o sennò le le qualche cosa cazzo vediamo quali album fotografici c'ho indietro io direi che quello la la madonna la madonna e segui un drift sotto la pioggia con un veicolo da drift ma stai scherzando ma stai scherzando come dicono sta cosa facile facile se questa te la faccio subito vedi fatta easy proprio drift sotto la pioggia madonna il caos con lo trattore esattamente dove cazzo boh sono finito fuori ok ok non lo so ok ho no idea allora ho visto il tuo nick lima ma non ho visto te dico ho pesa segno attraversando la porta del dragone a san francisco con un veicolo stris ah figa consegna rapida si la cosa mi ha fatto dannare l'anino qui il bello è che ho già recuperato i soldi che ho speso sulla mazda chec ti credo un costancazzo con la strunza poi ce la farà warparsi ce la fa come un veicolo da street run aspetta cosa era che devo fare già mi sono scorsa no benissimo devi attraversare la porta del dragone con una street race mi pare che mi chiedeva con una street race ma devi dilipare allora devo mettere il il gran porco il gran torino yes questo è il dragon's gate drift driftazione belli frame a zero tu dovresti vedere las vegas ormai ti entro lag vegas non mi ha driftato il porco ho capito meglio fare una mini rincorsina ah ok beh ho il cheat ho il cheat per farlo credo che me la conterà perché per un frame si è visto anche se ho i miei seri dubbi vediamo digna dai e su per un frame non me la conta guarda che bastardo per un war frame già cristolante che ti mette china ah mo mo io lo dico io allora se andavo non di frizzare maledetto forse con teraconda vediamo tink tink certo che ci sta tre opere a caricarsi in erano infortunateli sta spazzando la telecamera no no questa a quanto pare è personale du coglioni vabbè 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 devi solamente premere x più quadrato quando stai si esatto quello uff questa questa la voglio rendere foto prese dieci secondi prima del disastro che si può fare fai pure un video e ci metti la cosa di più giù dai la stavi contando poco fa ok perfetto oh beh ma questa è poesia vedo le scie della tua auto davanti a te ma è meravigliosa sta foto consegna very fast bah change foto complete underground tutte quante nice very good very quick sono ma di come cazzo faccio a far 2100 e passa stronzi qua perché sto utilizzando un'auto che ha i doppio follower it's good rip civile quello molto indietro è il catalogo a quanto pare della categoria viola re della collina 28% quella arancione quando sta la mia vediamo un poco 55 no stranamente freestyle è più indietro e re della collina è molto indietro raggiungi la cima del si tutte quelle che si chiamano il re d'egitto il re della centrale il re del rodeo il re delle palle dicami dicami tutte tranne la prima e la penultima basically allora activity frestile 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 no non l'ho fatto a hovest a hovest con la con la tra vita quindi ahi si ci faccio tutto proprio bene bene E... Tohoho Tohoho Ehm, si, c'è da serire là sopra un po' Con cosa? With what? E io ho pirla che gli passo davanti e non gli metto il pin Oh, ho preso il nulla, ho preso il nulla A cima del silo nuclearo Chernobyl parte seconda Aaaaaaah Ah, ecco perché Ecco perché basta Ma se entro all'interno conta? No, dentro no Du cojoni Oh beh Questa la voglio fare spettacolare allora Aspetta, aspetta Morite Perché a quanto pare Perché a quanto pare lei conta In un certo modo, quindi Perché hanno reso l'elicottero acrobatico quando non puoi fare un cazzo Boh Toccata il fuoco Sì Bene Va che spettacolo In aria proprio Sì Ah, magnetico Le mie palle vanno a clippare addosso all'ultoso Qui non succede niente Bellissimo Oh bello Mi ha segnato un drift a terra Come record sopra il silo K Benissimo Andiamo bene Poi Next Next up Sarebbe Il re del portissimo Album fotografico Il re del rodeo Re del rodeo Ah No Una me Ah, sempre Chicago K Sì Ehm Dobbiamo andare da Marta Oh La grande mucca Guarda il mio ghost come sta girando Fiero C'è scritto C'è scritto Chicago Non lo trovo Che è un porco I muri del monte No Ah eccolo Vaffanculo Questo sarebbe Questo sarebbe Ovest di Chicago Secondo di te a due Kex Venga my boy Mi segua Nord-Ovest Nord-Ovest Qualche traduttore ha fatto la cazzata Cosa te sa Ciao Marta Non è un piacere Sulla testa della mucca gigante K Sì Perché altrimenti non puoi sfumare Cursed pictures Sulla testa della mucca gigante Un buon salve Dio Lei l'ha preso lo stesso Si rischia di atterrare con l'elicottero dopodiché cambiare In volo ci sono 90% di chance che scivoli Eppure la sta contando Altre foto prese prima del disastro Si Ma meraviglia Ci fanno credere Ah beh, fa un cuore Ce la siamo arrivata di mezzo Già Che Che merda La grande vacca La grande vacca di merda Minchie Visto che siamo al nord ovest di Chicago Ah ok, no E' davvero al nord ovest di Chicago Ok, non siamo molto distanti Ma è boh Mo faccio raggiungere i miei teletrasporta qui Come poco fa, lo vede Ah no, ok Mi vede le palle Dov'è? Però non sarà molto easy Se non ricordo male devi farlo con un aereo Mentre sei rovesciato Quassù? Yes Devo prendere le palle? I passaggi sopra rovesciato Oh Aspetta che ti metto il grande pin Allora Sorvola il battello E prosegui Verso l'alba Come un aereo Verso sto cazzo Visto che non c'è il sole Usa il grandissimo photoshop Aereo Basta quota A rovescio Sopra il battello A palle Il battello a palle L'alba Immaginate il battello Che va avanti A palle Non l'ha contata un cazzo Praticamente Non gli sei passato sopra Manco più in quasi Quello è vero Tac Quindi questa è la famosissima Bullshit No Quella Bullshit E' una molto più bullshit Di questa Io però che sono incompetente Con gli aerei Come ritorno all'area di gioco Ma come ti permetti Si Ehm Se non lo stai usando Ti suggerisco un aerobatics Per andare più lento Vero Ehm 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 Più lento Ehm Eri più izzy Tecnica Eri più izzy Raise the sun Ok Ma Allora Se gli passo sopra Non mi conta il basta Quattro Rage Io non lo capisco Vabbè Devo prendermi una rincorsa Del cazzo Quando ho capito No Il vento mi ha deviato il forco Che è successo? Che ho preso una pala In pieno Voglio vedere se era Deve essere doloroso Ecco Ora manca solo mattina Devo mettere mattina Nel Nel Dai Oh Pure questa è molto prima del disastro Chec Basta che l'ha presa Mi ha fatto Minchia Ole Il re di sto cazzo Adesso c'è Vediamo un po' Eh C'è un altro fatto Pure quello no? Iè Il re del cimitero Madonna Madonna Sì 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 Molto free Molto free Bellag Chec Sì Mo 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 Genere Mo 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 No Cosa Overlord 4 Non arriva Soon Enough Chec Bello come zoom da solo perchè ho il touchpad rotto Si sposto Si sposta in direzione in random E poi zoom Allora giù Questo è Davanti agli occhi Questo è procedurally generated movement proprio Venga my boy Ehm Ehm Boom Mi sono fatto tipo Chec Ho sbagliato Sorvola gli aerei del cane Lo conterà un bassa quota con l'aereo Chec Con l'elicottero No Che porco Atterraggio Vedi questo posto Questo posto un giorno si chiamerà Baia delle falene Baia del porco Oh ma è l'arena di destruction derby dell'otto Yes Bene Fattami poi Yeh Ok Poi Si se magari vado nel posto giusto Ah Il re di valle street Il re della valle Ah ecco il re di wall street quello è quello bastardo Yeh E quello è l'ultimo Il re della valle l'ho fatta già Ma si guarda quella di wall street me la lascio Me la lascio Da parte Me la sbatto il cazzo Anche perchè ho quella di demolition derby da fare a quanto pare Strano Pausa rigenerante Quei testo rigenerante Sveu Bezza dici calmo Venga qui a fare l'ottame già che ci siamo Ehm Dovrei averla fatta forse Ah no non l'ho fatta Come? Come è possibile? Come è possibile? Ah boh Io ero certo Ah a due metri proprio Easy Eeeh Ma fammi scendere maledetto Eh sound effects l'ho? Ok Nope Salute compromessa addirittura Tuffati della sorgente cosa? Ah Ma andiamo pure alla Prima serve questo Ah già scemo io Mi avevo reso conto che Avevo messo il pin sull'altra Ecco 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 Non mi inviai l'ottame Qualcosa la? Itzi Easy Belli i cartelli di metallo che sembrano fatti di plastica per come cadono Traccia che cazzo Traccia Auto abbandonata Oh si questa è quella che ho fatto l'altro giorno Venga qui Era l'ultima che mi mancava della demo derby C'hanno un po' di raffanio qua Pure qui devo mettermi in mezzo qua? Yes Qualcosa di molto creativo Molto Se sono sprecati con la fantasia proprio Ti piace vincere facile? Pizzi Auto abbandonata Ah Orecchio Cos'è i mega fischi che partono a casa? Uuuu Se non lo abbia detto ho sentito solo Bbbi Com'è che cazzo? No stavo parlando auto abbandonato dicevo il nome della merda Sì. Allora, questo dov'è? Sulla testa. Sulla testa. Sulla testa. Di che categoria è? Quello lì. Quello lì. Siamo viola, però non so di preciso di che cos'è. Ah, ce l'ho sulla testa. Per qualche motivo ce l'ho già fatta. Salto in alto mare, che non ho fatto assolutamente in alto mare, nei dettagli. Oh, eccola la sorgente. Che buono, che buono. Chiedo scudo. Non molto distante dalla grande nuova. Non molto. Un'alternativa a cercare... Ah, no. Certo. Tuffati nella sorgente. Qui? Qui in questa merda? Eh... Beh... Un pochino. Salute compromessa. Non lo sta contando. prova qui dove c'è dove non è dove non è alta boh l'ho fatta provando a buttarmi ti stai facendo il tuffo molto a random l'ho fatta vediamo per la salute compagnia ti basta autodanneggiarti durante la sciampa la cosa della foto ha funzionato ha funzionato bene bene it worked muovedemo muovedemo allora come nei film finisci sulla scritta Hollywood a nord di Los Angeles difficile abbastanza restituare ad andarci come elicottero cadroia dove minchiai la Hollywood dove minchiai la Hollywood tre differente casa bollywood va vicino a un evento motocross ma è bello bello oh questo è qualcosa che... no non è si qualcosa no stavo controllando un edificio non mi ricordo se era uno che mi piaceva a me sul... sul primo per più vedendo mi sembra che si si era quello beh non ho cominciato deve essere hanno scattato la scuola ehm andiamo a noi la scritta sta un po' su inoltre dove ci stai te abis hollywood 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 la drop del Dbomb wiii lella ha funzionato non lo so non ho messo il marker quindi so beh faccio dove sticolare pi in alto in il casco prima che 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 finisce di cambiare cosa sei già caduto a ferro l'ha contata come ho detto allora? verizzi solo che sta andando lendo come lo schifo lento l'ha il gioco 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 l'ho rottamata sta macchina izzi oh ci sono un sacco di principianti qui gente che non ha manco livelli di icona considera che sono vicini all'opg che da stretta racer che è praticamente la prima cosa che va e che diste gli f*** di volte ai si cos'altro c'è vuol? tutto strutturato cavalca la schiena di elefante gigante del QG FV style del cucino freestyle allora apri i filtri togli i filtri la mia la mia la mia l'ha il gioco glitz dove? dove? io torno subito perché voglio vedere come sta messo come angina del diamantino yes grazie 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 ok yes io ho finito le ciance e foto di demolition e in modo dovremmo vedere quelle dovremmo vedere quelle di overcraft e cazzate varie io ho quelle da fare di imbilico sul ciglio a quanto pare per imbilico sul ciglio ne ho fatta quasi un strumento io ho una sola ne ho fatta che è? per imbilico sul ciglio io ne ho uno, due, tre apparentemente io ho solo Pikes Peak per farti capire si io ho quella io ho pure Montemoria vicino e Picco Salata qua si ha Salt Flags ah no Salt Flags vuole Montemoria ah quelle messe bene io ho solo trovo un lupo mi manca solo quella dei lupi a quanto pare pure a me manca il lupo sai e' un'altra cosa atterra sul tetto dello stadio con un overcraft ok ok sai se no? troppe cose c'ho da fare madonna troppe cose c'ho da fare ecc boh come se riesco a trovare ehm Ivory Peak porta i tuoi photo buggy dalla rally raid sul più alto picco innevato della Ivory Spring Valley sul più alto porco sul più alto porco oh yes questo è molto alto questo è molto alto yes allora Queen Julian .4 Ivory Springs eccolo qua Spring d'avorio devo andare sopra I guess con una rally raid abbiamo detto così mei c'è quanto ah te sei spostato lol mi dava che eri in tutt'altra location prima ok questo è indio però fatto bene mi dicono aspetta adattuato il posto devo solo raggiungerlo ie con con un veicolo a terra piuttosto che non mi riappari più nella mappa ma che cazzo però molto su ma è bene io scelgo olivey special vediamo dove cazzo mi fia spazzo insufficiente per il posto eh se magari invece di finire qua sopra finire da un'altra parte non c'è un cazzo da fare ah ecco ora sei apparso ti ha fatto responare sotto non ho avuto altra scelta che ha ropito sul porco dai 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 no no bello bello il cervo a me non appare che cazzo ah ecco l'ho visto il ghost c'è il controllo pem cos'è il record di velocità a quello quello eh sì ma avevano detto che li azzeravano però non è giusto già però sicuro che l'abbiano fatto a non installare in qualche modo è ancora possibile per quanto riguarda che cazzo c'è tu dimmi come cazzo si fa a fare una cosa del genere cosa fai gli atterra un una merda sopra un probabil un po' probabil non avrei altre spiegazioni ora se riuscissi a caricare il tuo modello io la farei pure ma non lo carica la protobug ce l'hai pure tu ma i miei rompe per cazzo a cambiarlo come si permette noi siamo come siamo lazy edgy la cascata del lungo mare con un veicolo da motocross nord di new york nova york la cascata del lungo mare la cascata del lungo porco raggiungi la vetta delle white mountains ma se il veicolo da motocross no no questo mi sembra più 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 o meno più più o meno o meno più 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 o meno che cone ma nuova york nuova york nuovo porco controllo io quale keks allora nord di new york scivoloso questa qua è k a new york c'è pure questa di scivoloso che io non ho che casino oh riaprimi la mappa maledetto come te permetti aspetta aspetta quello è un lupo cazzo no avevo visto un lupo merda affanculo lupi di merda la fai a salire sopra quella merda amato del cazzo quanto pare ho la tremarelle che cone oh sono apparto vicino a una library world a quanto pare che c'è dove è la mia moto crozzo crozzo ah non me la segna più la library world sti cazzi non è esattamente la cima questa ma k me l'ha contato non c'è dove salire niente ah sì che c'è rieccolo se la menta scivolosa sai che uccide della cascata del mondomare di nuovo motocross come si permette dove cazzo sta la cascata saremmo a nord di nuova york more like lag york in questo momento madonna spero solo che questa cascata non sia nato che negara no che negara aveva un'altra mi dio porco dove minghia sono le cascate saranno queste white mountain no queste non mi sa cerchi white mountain white mountain si tipo white mountain ferra per un'altra cosa questa teoricamente è un'altra cascata almeno che non lo è ancora delle ancora delle palle la cascata quella quella sapevo già dove è north woods saranno mica i grandi laghi del porco qua no vediamo che ci sono informazioni addizionali sulle sulle tecnici della cascata del lungomare non vedo come del corso verso la costa sul bordo della palle la cascata del lungomare non si capisce un cazzo forse l'ho trovata speriamo dove sei te? posso sfruttare il tizio qui? posso sfruttare il porco sto sfruttando il tizio e chiedo di sfruttare chiedo scusa ah c'è un warpino rapido ho utilizzato un tizio che sta impegando le si rendono utile un altro live reward ma stai scherzando ah no sul bordo della cascata mi ha mi ha allattato verso la costa l'inizio il bordo della cascata una cazzatata qua un cascato dentro la cascata un cancro sul porco no ok qui la conta yes la conta benissimo non mi esce questa bella sta cascata qua sul porco della cascata e mo mi ci butto nella cascata con l'overcraft l'el oh la mia ruota sta twitchando la mia ruota posteriore per k in realtà si allora e voilà no ho tutta realizzata un po' assoluto io credo magari non so cosa ha costato lì hai visto lì è ha preso e me ne vado con l'overcraft via eeeh che scaglione allora allora montagna di degas non c'è rischio che crasha vero? boh o lagmè una volta montagna sudeste qui è un veicolo da rally 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 queste è un veicolo oh oh un veicolo da rally rally mi piace per me fare di più del porco sud, est, di là di là di là ah no, in questo caso potrebbe essere questo un po' distante di così vediamo cantandoci il l'asso del suo sede il l'asso del suo sede sulla, ora l'asso che l'asso l'asso che l'asso in? ok, l'asso che l'asso in? molto meglio, faccio fare pure una panoramica per il rinforzamento le bolle, allora oh merda ho messo ho messo il pick up come veicolo preferito non la moto kek vabbè il pick up di merda ho messo il pick up di merda montagne di Sony Vegas o addobbe oh mi piace dove sto appoggiato con questa moto arrivo subito a vedere una montagna di riserva allora impinna sulla palfa andenne una nuova a i bar e roll non ti dando un cazzo bella merda non sarebbe la diga viva la diga dai ma che sia questa la diga in questione qua non c'è scritto che era forza quella quale che stiamo facendo mo scusa ehm pinico sul ciglio ma cazzo ma cazzo l'aria l'aria sulla diga si dovrebbe essere per lì mega k ehm idunno non cazzo mi dà vabbè sono mememe con una moto per bambini e ragazzi non è solo solo oggi come se permettano questo si chiama vediamo se lo dice il navigatore base di lancio redwood park base di lancio si chiama questa no aspetta stavo a parlare io ero qua come dice base di lancio stando qui non mi parla di dem nord di san francisco si è frizzato il gioco meraviglioso non è crashato ma si è frizzato l'ha detto chiude devo veramente chiudere il gioco per colpa di sta merda devo chiudere il porco ciao